Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Il Cuore Pulsante del Male, un'opera di Mark J. Wilson ed edizione italiana a cura della Libra Arsi, che io ringrazio veramente di cuore per avermi dato la possibilità, intanto per avermi inviato questa copia recensione omaggio a casa, e per avermi dato la possibilità di appunto recensirlo, di leggerlo e soprattutto di collaborare con voi. Quindi grazie all'editore Libra Arsi, è sempre un piacere e un onore collaborare con voi, grazie. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. In questo libro game Epic Fantasy, comunque forse più che Epic Fantasy, Dark Fantasy, perché comunque dai toni abbastanza cupi e soprattutto è anche... no, non capite male, però è leggermente anche più violente, più spinto di tanti altri libri game che ho letto finora, voi siete un personaggio che ha una bella storia, ha un grosso passato, ha un bel curriculum, mettiamolo così, come avventuriero, perché è stato un combattente, è stato un ladro, è stato un assassino, è stato un mercenario, tra molte virgolette un po' una specie di Conan il Barbero, insomma, che è una vista di cotte di crude e soprattutto potrebbe raccontare della sua storia e delle esperienze passate veramente per anni, anni, anni. Ci potrebbe scrivere una catasta così di libri. E nella storia principale voi siete stati richiamati da un vecchio amico e anche professore nella città di Deva. Vi ha mandato questa lettera chiedendovi appunto di raggiungerlo nella città portuale di Deva. E quindi il libro game comincia che voi state facendo questo viaggio in nave, con la nave Bogenhafen, che qui apro una piccola parentesi, la nave si chiama Bogenhofen, vabbè, Bogenhofen, Bogenhafen, qualcosa del genere. I nomi sono spesso molto italianizzati, quelli che troverete dentro questa avventura, soprattutto delle persone che andrete a incontrare, e la catena montuosa che circonda tutti i dintorni della città di Deva si chiamano Monti Apuccini. Si vede che questo Mark J. Wilson è un appassionato di Warhammer del vecchio mondo, perché io mi ricordo Bogenhafen dovrebbe essere la capitale dell'impero, del vecchio mondo di Warhammer. Mi sembra, per non dire una cavolata, comunque una delle città principali dell'impero. E soprattutto i Monti Apuccini sono la catena montuosa della penisola di Tilea, che poi sarebbe l'Italia, dei mercenari appunto. Il professore che vi aspetta per darvi questa missione, che vi richiama l'attenzione, e anche questo vostro vecchio amico che si chiama Ars, il professore porta come nome Jeronimus. Cioè, Euronimus, quello lo sapete della storia con Burzum, l'accortellamento, Black Metal Mafia, tutte queste cose. Quindi, insomma, ci sono tanti richiami. Si vede che è un nerd lo scrittore numero uno, soprattutto, ha tante delle mie passioni in comune, e ce l'ha cercato di buttare nel romanzo, anche perché è impossibile creare qualcosa da zero, e cercherai sempre di fare riferimenti con cose che ti piacciono. Quello che mi ha colpito veramente di questo libro game, poi ve lo faccio vedere da vicino, sono soprattutto due cose. La prima è che i paragrafi sono scritti alla giusta lunghezza, c'è anche il paragrafo da una pagina e mezzo o due, però soltanto quando c'è un momento preciso della storia, che necessita e richiede particolare attenzione, e appunto filone narrativo. Dovete stare lì, leggere e capire cosa succede, quindi deve essere descritto bene, e non bastano tre righe. E poi per la maggior parte comunque non sono mai quei capitoletti che io odio nei libri game, dove tre righe, entri nella città, il portone è dorato con le figie di un'aquila, arrivi alla locanda e il locandiere ti saluta. Cioè, tre righe e mezzo per descrivermi tutte queste cose, no, ci vogliono più step e più passaggi. Un'altra cosa bella, che non c'è bisogno di tirare i dadi, lato positivo e lato negativo, ve lo dirò alla fine, però in questo gioco non ci sono dadi. Ci sono le caratteristiche che sono agilità, destrezza ed energia. Energia è ovviamente la vostra fonte vitale, agilità per le prove di agilità, nel senso scavalcare, scappare, schivare, attaccare, per quanto a volte anche un tiro contrapposto, oppure saltare da un tetto in altro, la destrezza forse più a livello combattivo, di armatura, riuscire magari a schivare un colpo e cose del genere. Quindi il gioco tante volte ci metterà davanti a delle prove, in un altro libro game ti avrebbe detto, c'è una prova a difficoltà 8, tira un dado da 10, sommaci la tua destrezza e guarda cosa viene fuori. Se l'hai superata vai qui, se l'hai fallita vai di qua, qui no. Qui a volte ti dice, anzi a volte sempre ti dice, questa qui è la prova, la difficoltà è 8, se hai una somma fra energia e destrezza, oppure fragilità e destrezza di 8 più, vai qui. Se invece c'hai 7 o meno vai di qua. Quindi non c'è da tirare i dadi, ma anche per i combattimenti. Il combattimento non è nel classico stile lupo solitario con una tabella, tira 3 punti feriti a me, tira 4 io a lui, 0 lui a me, parato il colpo, no. Qui semplicemente i combattimenti sono tutto quanto a livello narrativo e quindi il primo gamebook completamente narrativo, il primo libro game, perché anche combattimenti è la stessa cosa. Ti fronteggiano 3 scheletri. Se hai una somma di agilità più destrezza pari a 12, vai a questa pagina. Se no vai a quest'altra. Te va alla pagina dopo e magari ti dice, con grande maestria riesce a sconfiggere gli scheletri e tutto quanto, ma riescano a farti, mentre fuggi uno ti pugnala e ti fa 5 punti ferita, una ferita superficiale. Quindi è tutto narrativo, non c'è un singolo tiro di dado in tutto il libro game. È una cosa che ho apprezzato, perché onestamente a me piacciono quei tipi di libri game in cui mi mandi, cioè non mi devi staccare dall'attenzione, non mi vai a distogliere l'attenzione dalla storia che sto leggendo, perché se ogni volta vai lì e segna, torno, vai lì e segna, cioè io perdo il filo del discorso. Cosa non così? Io sono di quelle persone non multitasking, mi fai fare due cose insieme, veramente le faccio malissimo tutte e due, o mi dimentico una delle due. Comunque vi faccio vedere un pochino di cosa tratte e poi vi do una valutazione finale. Ora lasciate stare che io sono un cacciarone, guardate la calligrafia che ho, però per me è quasi dissacrante scrivere dentro un libro. Ogni tanto lo faccio, sono sincero, però mi dà abbastanza fastidio. E anche perché se qualcuno lo volesse giocare dopo di me, non dovrebbe andare a vedere cosa c'è scritto sulla scheda, sono solo spoiler. Comunque evitando spoiler, qui mi segno sempre il numero del capitolo dove sono arrivato, a segnalibro così non lo vado a perdere, mi ricordo esattamente a che paragrafo ero. Questa qui è l'agilità. Ah, caratteristiche che possono andare ad abbassarsi, infatti vedete che io dove sono nella storia, ho agilità 8, mi si è abbassata 6, quindi anche le stesse caratteristiche si abbassano. E destrezza 10, ho fatto un combattente, energia mi si è abbassata, c'è anche il livello di destino, che è molto interessante e divertente, perché il destino è come siete visti voi agli occhi del mondo. Potete essere un eroe o il peggio schifoso, e ovviamente cambierà anche il corso della storia, e come la gente si rapporterà a voi. I doni che potete prendere, che sono tipo abilità, poi vabbè tutto quanto, l'equipaggiamento e le note per le persone che incontrate. Questo è il libro game, veramente mi guarda da morire anche il tipo di disegno, e voi siete questo personaggio qui che ve l'ho detto, è un eroe, non è l'ultimo arrivato, siete un veterano di molte battaglie, insomma siete l'avventuriero di alto livello, ecco non siete il principiante appena uscito da qualche scuola. Mi piacciono veramente tanto i disegni che sono dentro, non ce n'è tantissimi, però quelle che ci sono sono fatti da paura. Un piccolo prologo, la mappa della città di Deva, dove ci muoveremo nel corso dell'avventura, dettagliata, da morire poi con tutti quanti i quartieri, le cose da visitare, e qui ci sono le regole del gioco, ragazzi è il gioco più facile del mondo, non a tiri di dado, quindi immaginatevi voi, e la scheda, vedete agilità, come l'ho fatta io di strezza, energia, doni, le note, perché il gioco vi dirà, scrivi che hai conosciuto Mr. X, perché magari poi nel corso dell'avventura lo ritroverai. Poi attributi, che sono gli attributi che vi ho detto, vi descrive le prove, e poi i doni, astuzia, sopravvivere, arcani, se volete fare un personaggio più magico, per me non esiste la magia, acrobazia, e cose del genere, e arrivate qua giù, i test, che c'è da fare, destino, che è una cosa importantissima, e arrivate qui, ed è finito, fine del regolamento, basta, cioè non c'è da fare nient'altro, parte la vostra avventura a bordo della nave Bogenhofen, e questa qui è la locandiera, che praticamente vi farà da rifugio, per una buona metà parte dell'avventura, quando arriverete a Devon, una specie di rifugio, e base operativa, non vi dico nient'altro, se no ve lo spoiler e ve lo rovino, e insomma, vedete anche i capitoletti sono belli articolati, disegni piccoli, ma comunque veramente fatti molto bene, e i capitoletti sono anche abbastanza, lunghi una pagina, sì, a volte ci sono anche più brevi, però vedete, anche girando le pagine, difficilmente, a parte i rarissimi casi, trovate cose striminzite, ovvio, se vi devo dire come hai ammazzato lo scheletro, è inutile che ve lo narrano in 10 pagine, bastano 3-4 righe, però per le cose principali, vedete comunque, i capitoletti sono sempre abbastanza descrittivi, ed è veramente ragazzi, molto bello, non c'è da scegliere razza, non c'è da scegliere classe, voi siete questo personaggio, che bene o male sa fare tutto, come mettete le caratteristiche, quella è la cosa essenziale, un po' alla vecchia, ultimo online, un sistema senza classi, per citare un videogioco, e siete un personaggio, che vi ho detto, sa fare tutto, e non ci sono razze, siete un umano, le razze nel gioco ci sono, però a voi non vi viene data, la possibilità di crearne una, la storia è bella, è molto creepy, molto oscura, a me è piaciuta da morire, c'è un momento, non vi voglio dire niente, ma che c'è una cosa, molto dissacrante, verso gli Elfi, io odio gli Elfi, sono per i Nani, senza spoiler, tanto è comunque, nel primo centenario di pagine, di capitoletti, e poi c'è, una parte sottoterra, dove andate a parlare, con antiche forze, divinità, o comunque statue, che le vanno a rappresentare, avatar e cose del genere, queste voce, che sentite nella testa, e poi si risveglia qualcosa, di antico e potente, mi è piaciuto veramente, da morire, quindi la storia è molto bella, ora, se anche i disegni, che ci sono dentro, non ce n'è tantissimi, però quelli che ci sono, vanno bene, e questo gioco qui, per quanto non ci sono, questo libro game, per quanto non ci sono, tiri di dado, mi ha rimandato, molto più di tanti altri, al vecchio lupo solitario, perché il vecchio lupo solitario, si dedicava più a narrarti, una storia, non più che a farti fare, i combattimenti, ce ne erano, e ce ne erano tanti, però, in un lupo solitario, ci potevano essere, 10 combattimenti, in tutto il libro game, poi il resto, era tutta quanta, storia, e appunto narrazione, e il fatto, che non devo tirare dadi, da una parte mi piace, e da una parte no, dico la verità, 50 e 50, perché da una parte, ne sento un po' la mancanza, c'ho tutti i giochi da tavolo, dove si tirano valanghe di dadi, soprattutto quelli dell'Akmon, zombie side, ma da un'altra parte, meno male, perché io voglio leggere, io non voglio, pensare, tiri alla matematica, leva quello, aggiorna quell'altro, leva punti ferita, io voglio leggere una storia, voglio come, come se fosse un romanzo, e ogni tanto, posso avere una scelta, cerco qualcosa, di molto più veloce, e fruibile, soprattutto, che non mi distolga, l'attenzione, da quello che sto leggendo, che a me mi danno, è come quando a volte, siete lì, che leggete sul letto, e vi tocca mettere, il segnalibro e chiudere, che hanno suonato il campanello, qualcuno vi chiama, ragazzi, che se ne dica, da fastidio a tutti, perché quando si legge qualcosa, devo dargli un voto, forse, forse, forse mi garba, il fatto che non si tirano dadi, però io ce l'avrei messo, un tiro di dado, però forse più leggero, qualcosa, se ne sente un pochino, la mancanza di un tiro di dado, per me è un pregio, però ogni tanto, è una cosa con la testa, e col cuore, ogni tanto sento un po' una mancanza, di un tiracquar cosa, mentre leggo, una cavolatina, quindi se le devo dare un voto, le do assolutamente, un 9 su 10, io ringrazio, da morire, la liberarsi, per avermi fornito, questa copia per la recensione, ragazzi, mi raccomando, primo link, in descrizione, se volete acquistarlo, e quando andate, su tutto il catalogo, della liberarsi, usate il codice sconto, Coridan 10, quindi al momento, dell'acquisto, quando andate sul sito, della liberarsi, andate ad acquistare, qualsiasi cosa, mi raccomando, hai un codice discount, Coridan, tanto ve lo scrivo in descrizione, Coridan, maiuscolo, 10, numero attaccato, e avrete subito diritto, a uno sconto del 10%, quindi perché no, alla fin fine, magari ci tagliate completamente fuori le spese postali, quindi 9 su 10, meritatissimo, ringrazio ancora una volta, la liberarsi, e ragazzi, è uno spettacolo, questo veramente, non ho problemi a dirlo, mi è piaciuto più, di tanti altri libri game, anche dello stesso editore, che ho letto precedentemente, veramente molto molto bello, e finalmente, avete un personaggio, che è un tutto a fare, un combattente, un ladro, e qualsiasi cosa, è una specie di eroe dell'avventura, non siete il classico sfigatello, che piano piano diventa qualcuno, fatemi sapere cosa ne pensate, per me, promosso a pienissimi voti, ciao, alla prossima.